Rientriamo in studio, sono in compagnia del consigliere regionale Giuseppe Aieta, nonché presidente della commissione Bilancio, che oggi è qui con noi. Benvenuto. Salve, grazie per l'invito. Grazie, grazie a lei per essere con noi. Allora, le elezioni regionali, tanto attese le elezioni regionali, si avvicinano il 26 gennaio. I calabresi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente, il consiglio, la giunta e quant'altro. Ci siamo consigliere, partiamo però dal sondaggio che è stato commissionato dal PD, dove praticamente il presidente Mario Liverio raggiunge soltanto il 14%. Che succede? Guardi, è una situazione che si insegue dal 2014, perché anche nel 2014 il PD commissionò un sondaggio, era il PD però del 40% di Renzi alle europee. Quindi c'è una netta differenza. E diciamo che Oliverio non passava per essere un renziano, c'era in campo la candidatura di Callipo, i sondaggi davano Callipo in netto vantaggio rispetto ad Oliverio, poi sappiamo come è andata a finire. Credo che questo sia un autogol, chi ha pubblicato questo sondaggio credo che abbia fatto male soprattutto al PD e alla Calabria. Io non credo che in questo ci sia stata la volontà del segretario Zingaretti, che è persona abbastanza oculata e prudente in queste cose. Però di fatto si è diffuso questo sondaggio, non capiamo la metodologia, anche perché questo sondaggio non è pubblicato sul sito del Ministero, dove i sondaggi devono essere per legge pubblicati. Quindi è anomala, ma la questione non è solo questa. La questione è che a qualche settimana dal voto ancora non abbiamo un candidato ufficialmente indicato. Si è rincorso il Movimento 5 Stelle, che più volte, devo riconoscere, i parlamentari del Movimento hanno più volte allontanato l'ipotesi di un accordo con il PD. Si è voluto fare un matrimonio facendo rimpiangere Don Rodrigo, al contrario. Un matrimonio che si voleva a tutti i costi fare, ma che i deputati del Movimento 5 Stelle in Calabria non volevano. Si è perso molto tempo. Si tenda di mettere in piedi una rosa di nomi raccogliticcia, perché poi i nomi importanti sono tutti fuggiti, ovviamente. Perché le persone serie di fronte a un quadro instabile scappano, vanno via. Tra l'altro, come sottolineava lei, è assolutamente anomalo che poche settimane dal voto non ci sia questo candidato, sia per quanto riguarda la coalizione di centrodestra che per quanto riguarda la coalizione centrosilistra. Tra l'altro, lo sappiamo, è noto, lei sostiene fermamente la candidatura di Mario Liverio, però c'è prima un passaggio che volevo analizzare con lei, le primarie che non sono state fatte. Io ho aderito al PD, non avendo partecipato alla nascita di questo partito, perché io provengo dalla storia socialista, ma ho aderito al PD nel momento in cui Matteo Renzi, segretario, riuscì laddove i suoi predecessori non riuscirono, cioè a portare il PD nella grande famiglia del Partito Socialista Europeo. E perché le primarie, che sono un esercizio democratico, fortemente democratico, erano così, rappresentavano una prassi felice per chi volesse partecipare al gioco democratico. Stranamente, Matteo Renzi, cinque anni fa, nonostante avesse la forza per imporre un proprio candidato, autorizzò le primarie in Calabria. Questa volta con un PD dimezzato, molto più debole, molto più fragile, anche per scelte nazionali, che ovviamente qui non analizziamo, ma il PD non autorizza le primarie in Calabria. Perché non le autorizzate questa volta? Questo non si capisce. Insomma, la giustificazione che si dà su Mario Oliverio, che ha riproposto la sua candidatura, non perché l'abbia riproposta da solo, ma perché molti sindaci, molti amministratori... C'è stato appunto un grande sostegno da parte di tantissimi sindaci nei confronti di ricandidarsi. Di fronte a questo, insomma, il PD doveva, come dire, imboccare una strada che era facile, era semplice, che avrebbe tenuto unito tutto il PD, e cioè mettere in campo un altro nome. Perché in politica chi affilotesse? Siccome, come dire, in questa fase avevamo bisogno anche di alimentare l'entusiasmo, e le primarie sono un motore dell'entusiasmo, perché coinvolgono i cittadini... Tra l'altro è una campagna elettorale totalmente silente, i cittadini non sanno come partecipare proprio per una serie di ragioni che sta appunto elencando lei. Certo, pertanto siamo in una fase di stallo, che è terribile, nella quale nessuno conosce il proprio destino, ma quello che più ci preoccupa, al di là del destino dei sindaci... Chi dobbiamo andare a votare, tra l'altro? È il destino dei calabresi, che non sanno ancora chi sarà il candidato del centro-sinistra. Sì, certamente, assolutamente sì. Ecco, consigliere, c'è grande confusione rispetto appunto a queste elezioni regionali, ma c'è grande anche divisione tra l'operato di Mario Oliverio, che appunto molti sono contenti, o comunque parzialmente contenti, di ciò che ha fatto il Presidente Oliverio, altri invece no. Lei si pone ovviamente in una situazione di sostegno, comunque al lavoro e all'operato del Presidente Oliverio. Guardi, io... Quali punti possiamo sottolineare? Nella mia vita ho utilizzato sempre un metodo, che è quello di parlare il linguaggio della chiarezza con i cittadini. Oliverio non ha realizzato l'El Dorado in Calabria, anche perché ci sono cose nelle quali non si è potuto misurare. Prendiamo la sanità, dove praticamente le competenze della Regione, io che sono un legislatore, perché sono stato eletto in Consiglio regionale, non ho potuto legiferare sulla sanità, perché il commissariamento impone... Non lo consente. O che i poteri siano accentrati e concentrati sul governo. Ma ci sono tante cose che chi sta nelle istituzioni, che i sindaci, bisognerebbe intervistare i 404 sindaci della Calabria per capire cosa hanno nelle casse. È la prima volta che la Regione Calabria diventa un ente di programmazione e non di gestione. Cioè il rapporto con i sindaci è stato un rapporto fecondo. In queste ore, in questi giorni, i sindaci stanno sottoscrivendo le convenzioni per i finanziamenti sui borghi. Ma non voglio parlare delle scuole. Su circa 2000 scuole in Calabria sono state messe in sicurezza finora 750 scuole e tante altre ne verranno con i prossimi bandi. Non voglio parlare di ciò che è accaduto con i voli, con i trasporti, con i porti. La prima volta che la Regione Calabria investe sui porti. Cioè tutto questo deve essere analizzato da un partito. Ma devo dire la verità, il PD su questo ha un giudizio positivo. Il PD nazionale, il PD calabrese, stranamente, coloro i quali hanno governato fino ad oggi con Oliverio, tendono a tirare la mano e tendono di dire io non c'entro. Quindi c'è questa dicotomia, questo divario, un po' come gli schiavi ai tempi di Nerone, quando venivano trascinati e squartati. Cioè c'è una parte, il PD nazionale, che dice Oliverio ha fatto bene, però non unisce. E c'è un'altra parte in Calabria che dice Oliverio no, ma doveva fare meglio. Per cui siamo un po' come l'asino di Buridani, in mezzo, non si sa se bere o mangiare, si finisce per morire. Chiarissimo, chiarissimo. Cosa vogliamo dire ai calabresi rispetto alle prossime elezioni, rispetto anche al candidato che non c'è, quindi non possiamo neanche fare un appello e cercare di capire come aiutare a calabresi come orientarsi? Guardi, io vivo un momento di disagio, ovviamente, perché mi sarebbe piaciuto andare nei territori a raccontare quello che si è fatto. E' chiaro che quando si governa il giudizio del cittadino è un giudizio esigente e si deve fare i conti con anche la critica dei cittadini. Ma con i cittadini bisogna parlare. Lo diceva Corrado Alvaro, calabresi, vogliono essere parlati. E noi avevamo la necessità di parlare nei territori e non di riunirci in grigie stanze o in caminetti per decidere strategie che porteranno al fallimento. In questo caso, questa occasione però è stata persa. È stata persa e la responsabilità... Quindi il calabrese si disaffeziona ancora di più. Ma certo. Non si sa che percentuale di calabresi andrà a votare. Guardi, io ho solo la preoccupazione di non buttare al vento un lavoro di cinque anni faticoso, un lavoro intenso, un lavoro fatto con una visione, dove ci sono molti limiti che Oliverio riconosce per primo. Ma il punto oggi non è Oliverio. Io non ho il dogma di Oliverio. Il punto è mettere in campo un altro nome e andare al gioco democratico che mette insieme anche chi perde nella stessa direzione. Questo ci hanno insegnato le primarie. Vorrei capire perché le primarie sono un assunto nel DNA del PD e in Calabria non si vogliono tenere. Guardi che è una cosa questa, che alla fine noi pagheremo. E chi pensa attraverso le furbizie di salvarsi non si salverà. Perché il fallimento è davanti a noi. Andremo a sbattere, andremo a sbattere tutti. È stato chiarissimo, coziera. Noi abbiamo terminato il nostro tempo, il nostro spazio purtroppo. Abbiamo i tempi televisivi. Se no ci sarebbe tanto da dire. Avremo modo. Facciamo un in bocca al lupo alla Calabria. Speriamo che questo nome esca presto, questi nomi. Perché alla fine vediamo come poterci orientare. Tra l'altro, ripeto, si andrà a votare il 26 gennaio. E ancora non sappiamo chi. È un paradosso straordinario. A lei la chiusura, consigliere. Guardi, è un paradosso che ovviamente per chi fa politica crea disagio. Io sono stato abituato ad assumere posizioni, a prendermi le responsabilità delle posizioni che assumo. Oggi la Calabria è come se fosse destinata ad un isolamento che non è solo dei governi, come ci dicono tutte le statistiche, ma anche della classe dirigente. Una classe dirigente che ha una sindrome, guardi. Il grande limite della Calabria è che la classe dirigente ha la sindrome della sudditanza. Si vuole sentire suddita. Vuole che qualcuno dica loro cosa bisogna fare. Io sono autonomo. Non sarà che il mio DNA socialista mi renda così, come dire, libertario. Per cui il destino me lo scelgo da me. Non lo faccio scegliere ad altri. Dobbiamo chiudere, consigliere. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie ancora a Giuseppe Ieta. Noi ci vediamo più tardi. Grazie.